Il live è sempre un momento di verità. E così come tu sei sul palco, ti fa vedere come stai conducendo in realtà la tua vita interiore. E quindi sul palco io dico sempre che si vede un po' la vera natura delle persone. Lei non sa che è solo un altro imbroglio e tu lo chiami amore. Spacca il cuore di spacca il cuore. Tornare dopo tre anni mi preoccupava perché pensavo di essere un po' fuori allenamento, ma in realtà a me è sempre piaciuto tanto la parte live. Quindi in realtà è di nuovo un'occasione di emozione, di crescita. Come una musica, come domenica Sole ed azzurro Ci tengo sempre moltissimo a creare la band. Non mi piace essere... Non mi piace il cantante o la cantante e i musicisti. Mi piace invece che siamo tutti parte di una cosa. Infatti noi siamo impostati così. Quindi ci si ascolta fra di noi, si suona... Ognuno con un ottimo margine di libertà creativa, a cui io tengo moltissimo d'accordo. Sì, le canzoni vanno suonate, arrangiate in un certo modo, però ci deve anche essere un momento di libertà per ognuno. Parlarò di te, che non hai regole, la gente giudica e non sa neanche lei perché. Parlarò di me, che non mi amo davvero, ma una carezza sul mio viso la vorrei sul serio. Parlarò di noi, che abbiamo tutti contro, ma tu sei come me. So che rimarrai al mio fianco e dicono di me. Non sono più com'ero, e questa sono io, e non lo voglio, l'oro nero. Ara nero. Ara nero. Ara nero. Ara nero. Grazie a tutti.